Si è conclusa l'iniziativa benefica promossa dalla coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia Daniela Catalano e dal commissario provinciale Calogero Pisano, denominato il Natale per tutti. L'evento che si è svolto nella giornata di martedì scorso ha visto aprire le porte della sede del partito della Meloni per un open day della solidarietà ed è terminato con la consegna della spesa raccolta caricata dai partecipanti sul furgone messo a disposizione per l'attività solidale al responsabile del centro di ascolto della parrocchia di San Gerlando, padre Giuseppe Pontillo, che ne curerà la distribuzione alle famiglie in difficoltà. Soddisfatti la coordinatrice cittadina di Fratelli d'Italia Daniela Catalano e il commissario provinciale Calogero Pisano per la mole e la quantità di viveri in primis prodotti per i più piccini che sono stati raccolti. Il coordinamento del partito ringrazia quindi gli agrigentini per la generosità che hanno dimostrato e padre Pontillo per lo spirito collaborativo ancora una volta manifestato.